Amore, ma sei pronta? Fatti vedere. Oggi così vuoi testeggiare? Eh? Sì? Va bene. Hai già messo le calze antiscivolo? Sia per te che per l'Alessino, nello zainetto? Certo! Così non sbagliamo, se no poi li dobbiamo acquistare lì. Ok, amore, adesso noi pranziamo, facciamo un piccolo pranzo e poi andiamo a giocare al lavorare, ok? Dove ci saranno tante cosine stuzzicose da mangiare, da bere, ma soprattutto i mitici giochi, eh? Primo step sta quasi per iniziare, adesso dobbiamo andare a prendere la torta! Esatto! Io ho preso anche una torta per il nonno Silio, lo sapete? Sì, perché ha fatto gli anni anche il nonno Silio, quindi ho fatto fare una torta per te e una torta per lui e con scritto buon copriano nonno Silio, eh? Poverino! Eh sì, eh! Allora, ora andiamo a prendere la mia torta e andiamo alla guerra e vado a giocare! Esatto! Bene! Sì, bene! Sì, è fatto! Ho saltato, questo è andato qua! Sul dente? Ok, ma se il pregaglione! Siamo arrivati! Sei contenta? Eh? Sei emozionata? Si vede emozionata, amore! Dai che adesso inizia a divertirti, eh! Eccoci, vediamo se è arrivato intanto qualcuno, noi posiamo la torta, chi ha papà? Sì! E vediamo se c'è già qualcuno che ci aspetta! Ciao Giulie! Ciao Mia! Ciao amore! Allora Anastasia, andiamo a vedere un attimino il tavolo? Eh? Andiamo a dare un'occhiata a questo tavolino? Dove vai? E' di qua! Vediamo un po' cosa c'è in questo tavolo! Ma noi abbiamo scelto la baby dance! Sì, vuoi berne uno baby, lo ti piace amore? E' bello il tavolo? C'è il numero 7 con i palloncini! Va bene, è carino, sì! Carino il tavolo! Va bene, allora aspettiamo la viola che si deve scatenare dopo e tutti gli altri bimbi, ok? Stanno sposando! Beata lei, guarda! Uè, cominciamo? Cominciamo la dance, eh! Amore, chi è arrivato? Samuele? Hai fame? State mangiando qualcosina? Brave! Quanti siamo in totale? 18, qualche? Quattro appiccino! Ma dovrebbe... E con i fratelli... Wow! Con i fratelli e le sorelle dovremmo essere 18! Dami i regalini! L'ho i denti con le foto di... Usi il dentifricio alla pizza, Giulia? E' buono? Allora, mettiamo qua i regalini, brava Vanessa! Tu organizza un po' le cose! E' ancora qualche bimbo manca! Sì, è arrivato Samuele adesso! No, anche Enrico! Un cuore! Eh? Un cuore, amore! Brava! Vuoi che te la tagli, amore? Anche io la voglio! E prendi l'amore! Prendi! Ciao, Asia! Ciao, amore! Vuoi che ti aiuto a tagliarla? Dai! Allora, che abbiamo trovato qua? Vanessa, Gaia, ciao e Ale! Ciao, Ale! Tutto bene? Sì! Eh? L'anno prossimo alle medie, eh? È dura, è dura! Dove vai alle medie? A Ponnara! Sei sicura? Sì! Tu? Voi due? Sì, stanno al bene! Siete quelle due bimbe che vi assomigliate voi due, eh? Sì! Va bene, come procede la festa? Bene? Dai, tra un po' balleretevi, scatenerete su questo mini palco che è... Cioè, prima c'era quello... Quello gigante! Adesso è fuori! Adesso è piccolissimo, non va bene, non mi piace! È fuori! È fuori! Allora, Macarena è Macarena! Eh no, non penso! Fa freddo! Eh, hai capito? Adesso fa freddo! Va bene, tra un po' aspettiamola! Balla, facciamo una mamma mia, Macarena! Eh, Macarena! Ma tanto lo sfonderete! Perché siete inventi e secondo me lo romperete! No, l'aveva detto che stava solo lei, ma stava molto bene! Ah, ok! Ho organizzato un po' maluccio quest'anno, eh? Non mi è piaciuto molto, dai! Rispetto allo scorso anno, no? Sì, era più bella col palco qua! Eh, certo! Va bene, dai! Ci vediamo dopo con Anastasia! Ok, vai a chiamare Viola che è ora di tagliare la torta, eh? Va bene? Anastasia, dove sei? È ora di tagliare la torta! Are you happy? Devi sapere, la candolina mi raccomando, esprimi un desiderio bello e importante, eh? Capito? La candolina! Mi piace, amore, è una torta! È carina? Sì! Allora, esprimiamo un desiderio? È una canzone! Eh? La canzone! La canzone, prima? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te! Un desiderio a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te! Scattiamo i regali? Vai! Da chi ne siamo? Da di chi ne siamo? Di chi è questo? Di una! Di Dicchi! Di Dicchi! Di Dicchi! Quelli diciamo anche... Brava! Wow, che bello! Non capisco niente! Eh, non riesci a leggere? Te lo levo io! Vai, leggi tu, Nico! Non sento! Bravo, bravo! Stanti auguri a te, tanti auguri a te! Niccolasso! Bravo, grazie! Dove è? Che bello! Wow! Che bello! Bellissima! Che bello! Hai capito! Tengo io! Poi dobbiamo prendere un sacchetto! Abbiamo fatto il tempo! Eh, amore! Che bello! Wow! Ciao! Eh, ciaoone! Vuoi vedere un po' questa Barbie stupenda? Eh, la la! Grazie, Nico! Grazie, Ale! Dove è Ale? Non lo so! Ecco, Ale! Scusa, ciao! Ciao! Bellissima, amore! E chi è questo? Samuele! Samuele, suo fratellino! Tanti auguri a Anastasia per il suo compagno! Per il suo compagno! Il suo 7-7 compagno! Eh, sì, lo so! Tanti auguri a te! 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 Wow! posso vedere il diario segreto bellissimo chi è questo? asietta amore asietta e gioia ecco la bellissima bellissimo il colore poi è stupendo grazie oh ma com'è gigante ciao Ani, ti voglio tanto bene auguri di buon compleanno da Amelia e Guglietti Amelia Amelia a vedere oh che bello grazie ma è grandissimo ho strappato da qua cosa hai visto amore? cosa hai visto? oh c'è ore 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 qua ammazza tutta la famiglia tutta la famiglia va vede c'è anche il cane c'è il cavallo grazie Amelia è bellissimo grazie Guglietti vediamo un po' cosa c'è qui che bello quello che fa i rossetti sono rossetti l'uomo che è 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 l'uomo che Ah, di sicuro che esce questo! Sì, è vero, esce questo perché... Bellissimo! Grazie! Sì, è verissimo! che meravigliate di chi è che non mi faccio per lì devi tre ore e sei e sei bene va bene li crederemo e li porteremo a scuola vero? grazie viola 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 sei pronta? bello 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 lascia un attimo come siete? vedi che sono calcate? si poi amore queste delle perle e sono anche calcate basta la mamma di mia ora ora tastuccio mamma mia in tre siete non riuscite? in quattro in quattro in quattro grazie è un bello sempre a scuola è il portagel lo sai? poi mettiamo dentro una bocchina allora va bene? grazie che bello che bello la lucina è lucida l'acqua grazie viola dove è viola? qua bravole grazie il mamma è lucida l'acqua che buono ecco questo cuore rosso aspetta vediamo questo un blocchetto bravo wow che bello che bello che bello ma che meraviglia ma ci sono le stiche eh sì ci sono quelle delle stiche bellissimo amore forse bellissimo questo che bello guarda i scotch che belli ci sono i scotch bellissimo bellissimo anche quello bellissimo è una coscettina quando andiamo in vacanza a scuola e quando andiamo in vacanza? Gaia? Gaia 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 mamma mia bello anche qua per amare arrivi per amare dei bigli andiamo a tutti con la geranzia a forma di delfino dai un attimo Nastasia ce l'abbiamo fatta la Sofia Gaia Gaia sua sorella chi è amore? Gaia sua sorella vediamo come è? cosmetica di bellezza bellissimi tutti grazie a tutti bimbi grazie a tutti grazie a tutti ci sei anche tu amore siamo tornati a casa non mi dai neanche il tempo di entrare in casa che stai già a prendere i gali cos'è? vuoi una mano? no ci sei? volevi ricordare di vedere questo animale? guarda è un furbis? sembra il furbis? e questo sembrava il furbis che carino ora c'è un sacchettino c'è un sacchettino e chi c'è dentro? un amichetto? no ci sono guarda il pipero ma secondo me ma guarda c'è anche la penda per dormire questo qua è un diario segreto che a te piace tantissimo vero? e segnerai tutti i due segreti beh non perdere le chiavi allora amore ti sei cambiata ti sei lavata sono arrivati i nonni procediamo la festa con i nonni eh? guardate cosa cosa sei fare? cosa sei fare? vediamo wow bravissima ma è ancora tutta questa energia dopo una giornata così impegnativa dai che adesso arrivano anche gli altri nonni e la zia andiamo giù a mangiare un'altra torta c'è anche una sorpresa per il nonno che ha compiuto gli anni guardati hai già aperto il regalino ora mi scrivo andiamo un po' anche sulla mano si legge sei sicura? si l'avevo provato con il seo d'anni ma va puoi vedere? si ok vediamo diciamo ah è vero ma pensa te ma guarda è magica amore sei pronta a festeggiare ancora? no brava così mi piace sempre simpatica l'amore ti piace? eh? numero 7? che bello ecco noi abbiamo altri pasticini eh? buoni guarda che mi piace che buoni mi piace male la portaforma di 7? eh? vero nonna? che bella la porta è bellissima ciao nonni è bellissima quanti siamo? si prendi mamma quanti siamo? eh siamo in 5 8 2 10 esatto 10 stai già mangiando? ah ma che coloro vuoi? vogliamo vedere la torta per il nonno? anni guardiamo la torta per il nonno aspetta c'è un amore wow ma dov'è? non è ancora su non lo so dov'è il nonno la torta eccolo aspetta che c'ho una sorpresa anche per te siete pronti? esprimete un desiderio? no la canzone espresso? io sì sì auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te amore attenta a non cadere dal divano che adesso apriamo i regalini gli altri regalini quanti regali oggi signorina? sei contenta? ti è piaciuta la torta? era buona vero? cos'è? hai perso la parola? sì cosa c'è? apriamo i regali amore? vai vediamo i regali sì amore ok ok primo regalo da parte di? sarà della zia Claudia della zia Claudia ciao zia Claudia sì wow oddio che bello no come quelli che che belli sembrano quelli della Vane bellissimi mi piacciono quest'anno a me questi colori bello bellissimo grazie Anastasia bye bye poi c'è anche la maglietta da sopra no quella lì è di questo completo qua è un altro questo qua wow sono i calzini che bellissimo di questo bello con le calzine amore avete visto anche le calzine che belle e poi invece con la maglietta insieme al pantalone di prima di questo pantalone va a vedere la magliettina amore che carino bellissima bella una felpina aspetta che è un angelo questo è un angelo bellissimo un 4 anno piccola Anastasia una bambola per i tuoi giochi felici auguri d'angelo che carino amore 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 wow dai bella è mia ma vedo che ti conoscono tutti molto bene bellissima bellissima me la fai vedere no è mia che bella mamma che bella wow questo è sempre mio mio sempre mio tipo il mio non c'è niente niente ancora wow ma se te compriano tutte le stesse cose è perché ti conoscono Anastasia fanno tutti quello che ti piace bello questo è diverso questo è cupcake abbiamo la scorta dei trucchi così ti puoi truccare quanto vuoi no un diario è questo? no no non è vero è una sinistra ma dai ma dai dai bellissimo bella la penna è di vini quella che piace a te guarda la penna giusto c'era un gioco Anastasia guarda la penna non toccare i tuoi diari segreti di Anastasia no signore se scrivo qualcosa puoi scrivere tantissimo prossimi segreti amore e poi c'è ancora questo così si compra quello che vuole esatto per Anastasia per Anastasia per Anastasia per Anastasia per Anastasia aprilo 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 grazie a te leggo io questa zia e questi nonni anche lì ci sono presi i calzini guarda che c'è sui calzini c'è grazie a te 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 guarda mamma guarda mamma vediamo che bella la maglia c'è c'è sì non ho visto la maglietta posso vederla è un pigiama bello bellissimo bellissimo ottimo direi il pigiama ci serviva veramente tanto grazie zia Claudia grazie ai nonni l'ultimo e poi basta oh ma Anastasia grazie a pure dai miei nonni e il vestito grazie a me va bene ooooo lo so che è vero mi piace amore poi facciamo grazie grazie amorena adesso lo lasciamo lì poi lo apriamo e vediamo solo cosa c'è dentro la testa va bene allora diamo la buonanotte sei stata contenta di questa giornata ti sei divertita? hai ricevuto dei bei regali buonanotte allora amore e ancora tanti auguri grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti